Mi sa che da oggi quelli cominciano a capire cosa vuol dire, avere a che fare con un vero giurice popolare, eh? Vero, Pina? Faccio vedere io, sai, tutto, giù dalle scale. Io, io butto, voglio apposta. Ah, grazie, che mi hai preparato il bagno, Pina. Ha detto un colpisce spada! Pina, Pina, che lo vattene dire, no? Mamma mia, che dolore! Mamma mia, oddio! Oddio, mamma mia, che dolore!